L'usura si combatte anche con la conoscenza degli strumenti finanziari. Per questo la Regione Piemonte ha varato con la Fondazione Operti un percorso di formazione per operatori del sociale. Obiettivo aiutare le persone in difficoltà economica a gestire al meglio il loro denaro. Francesca Nacini. Sono il 23% i cittadini che in Piemonte non hanno accesso al credito bancario. Ed è nella loro difficoltà che spesso affonda le mani chi offre denaro facile. Per salvarli da rischio usura e sovraindebitamento, la Fondazione Don Mario Perti e l'Osservatorio regionale su questi fenomeni di Palazzo Lascaris hanno lanciato un nuovo progetto di educazione finanziaria. Gli incontri in tutte le province piemontesi sono rivolti agli operatori che si occupano di persone in condizioni di vulnerabilità sociale o beneficiari di progetti per il microcredito. È importantissimo che loro siano i primi a indirizzare correttamente le persone, a non diventare degli inutili predicatori su uno sprecare il denaro, frasi di questo genere, ma invece dare gli strumenti perché anche in futuro tutti questi si possono autonomizzare. E diventino molto prudente dal denaro facile che viene troppo proposto ed è un denaro facile assolutamente pericoloso. Si parte venerdì a Torino, tra i temi la gestione del risparmio, il bilancio familiare, il lessico economico, una lotta all'esclusione finanziaria da cui trae rinnovato vigore pure l'azione a livello regionale. L'osservatorio allarga il suo raggio d'azione anche al fenomeno del sovraindebitamento e da quello dell'usura. Quindi grazie ad iniziative come quella che promuoviamo oggi e alla collaborazione con le associazioni e le istituzioni economiche e sociali del Piemonte potremmo avere anche a disposizione maggiori dati sul fenomeno.